Se in inverno le zuppe ci riscaldano, in estate aiutano a depurarci e a restare in forma. Benvenuti in Cuscina per Te! Oggi prepariamo una zuppa verde super detox buonissima. Per questa preziosa ricetta ringrazio Antonella Confalone che me l'ha suggerita. Vediamo quali sono gli ingredienti e prepariamola insieme. Per due persone occorrono 250 g di spinaci 250 g di bieta una cipolla un gambo di sedano olio extravergine d'oliva e pinoli. Iniziamo la preparazione. Dopo aver mondato e lavato la cipolla e il sedano, le riduciamo a fette sottili. Li poniamo in una pentola aggiungiamo poca acqua e li facciamo bollire un paio di minuti. Appena si saranno ammorbiditi uniamo la bieta e gli spinaci precedentemente puliti e lavati. Aggiungiamo circa 250 ml di acqua chiudiamo con il coperchio e portiamo a cottura. Con un mixer ad immersione riduciamo tutto in crema. serviamo il piatto condendo la zuppa con un filo d'olio extravergine di oliva a crudo e una manciata di pinoli. Se vi piace potete accompagnare la zuppa con pane di segale tostato e tagliato a dadini. La zuppa verde super detox è pronta! Spero che anche questa videoricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, continuate a seguirci sul nostro sito web ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale YouTube. E se anche voi avete qualche ricetta da suggerirci scriveteci su infochiocciolacucinaperte.it Un saluto e alla prossima videoricetta!